Salve a tutti da Riccardo Zarfati, Portafoglio ETF, vediamo oggi gli spunti operativi per la giornata di martedì 29 marzo, questo perché ricordo nella giornata di domani e di lunedì la borsa italiana è chiusa per le feste di tappasquali e naturalmente vi auguro una buona Pasqua a tutti voi e ai vostri familiari. Prima di cominciare, permettetemi due secondi di autopromozione, parte oggi la promozione sull'abbonamento a OneWater Trading, vedete qua sulla chat, 12 mesi più 4 gratis, tutte le informazioni le troverete sulla pagina abbonamenti del sito ed è una promozione valida fino a sabato 2 aprile. Ne faccio una all'anno, quindi questo è il momento per chi volesse approfittarne, credo sia una buona opportunità. Tornando ai nostri strumenti, questi gli ETF che monitoriamo ogni giorno, andiamo subito a vedere che cosa è successo sui mercati oggi, se ieri era stata una giornata piuttosto debole, oggi la debolezza si è decisamente accentuata, sia sugli indici che sulle materie prime. Italia a meno 1,61%, Germania a meno 1,71%, Stato eppure in questo momento perde 0,44%. Ci sono stati dei dati macro anche piuttosto deboli che non hanno certo alimentato la voglia di comprare, consumer sentiment dalla Germania 9,4% sotto le attese, retail sales, vendita al dettaglio, gennaio sull'Italia 0, quindi calma piatta rispetto alle tesi di una piccola crescita, richieste settimanale di disoccupazione, questo è un po' l'unico dato sopra le attese dagli Stati Uniti come un po' spesso è avvenuto recentemente, 265.000 nuove richieste rispetto a 2,68 attese. Ma comunque il rallentamento c'è dell'economia dal punto di vista del manifatturiero, ordini benedurevoli, meno 1%, sempre parlo degli Stati Uniti, rispetto alle attese di meno 0,2%. Scendono giù anche le materie prime, anche se non in maniera così brusca come ieri, anche perché si è un po' rallentato il trend decrescente delle ultime giornate di euro-dollaro, vedete oggi, piuttosto piatto in giornata. Comunque oro meno 0,24, petrolio un altro punto percentuale e corn, qua c'è un errore, è più 0,34 e non meno 0,34, scusatemi per questo segno o meno sbagliato. Comunque adesso andiamo a vedere le candele, per cui tutto sarà più chiaro anche dai grafici, partiamo dall'indice italiano, eccolo qua, ETF MIB. Vedete qua c'è una decisa candela rossa di trend, dopo un lungo stabilizzare che poteva sembrare un ritorno, diciamo, sulle supporti, questo non è un bel segnale. Per il momento si prende profitto, visto che qua il prezzo d'entrata era circa 3 punti percentuali sotto al livello di chiusura tierna, per cui per il momento si prende profitto e poi si attenderà un qualche nuovo segnale dopo questa candela rossa di trend. Per cui uscita dall'Italia e uscita, a mio avviso, per il momento anche dagli Stati Uniti, andiamo a vederlo subito, qua anche c'è un buon profitto, sono state una quindicina di candele consecutive, praticamente quasi di rialzo e di interrotto. Qua da una zona di percomprato compare una prima candela rossa di trend, per cui anche in questo caso non attendiamo per il momento l'aggiungimento dello stop profit, ricordo che anche questa è una posizione in profitto, ma per il momento usciamo subito martedì mattina in attesa di nuovi segnali. Diamo uno sguardo alla Germania, qua non c'eravamo, ma comunque vedete da per il momento un segnale analogo, altra candela rossa che potrebbe inaugurare una fase di ulteriore tracciamento. Per il momento non entrerei short, aspettiamo che ci sia un segnale un po' più robusto, magari se questo dovesse avvenire su qualche ritracciamento proveremo ad entrare, su qualche rimbalzo diciamo proveremo ad entrare. Per il momento è solo una prima avvisaglia, io credo che il rimbalzo visto dai minimi di febbraio potrebbe non essere concluso, però certo seguiamo le candele e cercheremo di fare un'operatività che sia in linea con quello che ci dicono. Per il momento prima avvisagli con candele di trend coerenti su tutte e tre l'indici, per cui per il momento ce ne stiamo a guardare rimanendo liquidi sull'azionario. Passiamo alle materie prime, oro oggi ancora in piccolo ribasso, seppure un po' attenuato, qua c'è ancora probabilmente spazio. Ricordo che abbiamo attivato praticamente stamattina una posizione short sull'oro, oggi ha fatto uno 0,06, questa ricordo non è eggiata, per cui bisogna anche guardare che cosa fa Eurodollaro nelle prossime giornate. Comunque al momento un'altra candela verde di trend, per cui proviamo a rimanere in posizione. Ricordo qua lo stop a 22,20, quindi non molto lontano, il rischio è abbastanza contenuto su questa operazione. Il corn, vedete 0,84 lo strumento, per cui la candela rossa non di trend, fatta vedere ieri, al momento non viene confermata. C'è ancora un trend che sembra orientato al rialzo, per cui proviamo a mantenere, lasciando lo stop in macchina, cautelativo a 4,70, quindi non lontano dai prezzi odierni. Infine il petrolio, oggi meno 2,24 per lo strumento, vedete una decisa candela rossa che potrebbe dare il bio ad un ritracciamento. Chiaro che qua il livello importante per gli investitori sul petrolio sarà chiaramente questo supporto, che è il primo livello di supporto su questo strumento, diciamo area 2,30, da dove era ripartita questa altra piccola gamba di rialzo che sembra essersi formata. Questo potrebbe essere un movimento di picco, vediamo naturalmente, anche in questo caso, prima di prendere posizione, aspettiamo una qualche conferma per entrare eventualmente short, dopo questo primo segnale ribassista piuttosto chiaro. Bene, questo è tutto per cui andiamo a vedere il sommario, rimaniamo a questo punto, martedì, iniziamo la settimana liquidi sugli indici azionari, mentre abbiamo una strategia praticamente, diciamo, edging, edgiata sulle materie prime, con uno strumento long, il corne, ed uno strumento short, l'oro. Per il momento si rimane così, ricordo naturalmente la promozione, troverete tutte le informazioni, ricordo sul sito www.onavortrading.it, dove oltre alla promozione, anche tutte le informazioni, tra cui esempi di newsletter, e naturalmente anche conto profitti e perdite, con la massima trasparenza, per ricevere appunto, per abbonarsi e ricevere indicazioni operative, e costruire quindi un portafoglio di etf. La registrazione è comunque gratuita, permette di ricevere analisi tecnica settimanale, rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutti, sono questi i miei contatti, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo dopo le festività. A presto!